È grande novità per tutta la famiglia. Con l'arrivo della collezione dei classici Disney in DVD, è il momento dell'avventura. Sono lento! Vai, bella! È il momento della musica. Fantastico, mamma! È il momento della magia. Il letto potrebbe viaggiare veloce. Una collezione di classici senza tempo, come mai prima d'ora. Urra! Restaurati integralmente con qualità di immagini e di suoni, che potete trovare solo nei DVD Disney. Ehi, guarda un po' qua, amico. Con l'aggiunta di contenuti speciali. Io li adoro! È il momento di... portare a casa la magia. Saremmo amici per sempre. La collezione dei classici Disney in DVD. Storie senza tempo per tutta la famiglia.